ben ritrovati siamo di nuovo all'appuntamento del mercoledì l'approfondimento di turismo peschiera su peschiera del garda davanti al bastione san marco con me c'è sempre il libro peschiera graziosa e bella perché perché oggi ho intenzione di portarvi alla scoperta di qualcosa che probabilmente sfugge tante persone ma più che altro perché è una storia un po dimenticata ovvero di tutti quei grandi lavori che si fecero a cavallo degli anni 20 fino subito dopo guerra la peschiera del garda che di fatto la trasformarono infatti qua è proprio un esempio lampante di quello che fecero questi grandi lavori cioè una modifica anche idraulica importantissima di peschiera e quindi io comincio con questa foto è una foto della prima della guerra quindi saremo intorno agli anni 30 agli anni 40 lo sappiamo perché perché qua vediamo il ponte asburgico doppio treno e parte diciamo carrabile per i carri sotto che è stato distrutto durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale lasciando spazio proprio al ponte odierno dei sette ponti che è la quindi questa è una datazione certa infatti questo ponte monumentale a cui dedicheremo sicuramente una diretta a breve perché veramente era un ponte doveva essere spettacolare da vedere tutto in marmo bianco massiccio imponente doppio carrabile e ferroviario sopra era sicuramente un gioiello che è stato distrutto e quindi dedicheremo una puntata ad hoc comunque siamo qua siamo proprio nel punto in cui fu scattata questa foto esattamente in questo punto ce ne rendiamo conto perché perché questa è la provianda asburgica cioè un edificio asburgico di magazzino che è proprio quello che stiamo inquadrando in questo momento esattamente quell'angolo qui è quello che si vede nella foto quindi questo magazzino e quindi è proprio questo punto qua che vedete molto semplicemente quindi siamo proprio qua e come vedete in questa zona qua non c'è l'acqua quella che adesso io sto indicando come potete vedere dal video in cui c'è l'acqua ecco non c'era acqua perché perché il canale originario che cingeva le mura di peschiera passava da questo canale quindi lateralmente bastione san marco in modo molto stretto passava all'angolo qua davanti e ruotava subito in direzione dei sette ponti però durante appunto gli anni venti gli anni trenta si decise che qui doveva sorgere un porto dogana di fatto perché l'idea allora era di creare un mincio navigabile che consentisse la comunicazione tramare il lago di garda cosa che poi si abbandonò ma qua si decide di ampliare veramente in modo imponente l'accesso e la zona idraulica ed ecco questi lavori ma vediamo proprio gli operai che stanno costruendo la massicciata su cui siamo proprio in questo momento che è questa che corre e forma il lungo lago bonomi eccola qua in questa foto proprio si vede che stavano costruendola e ancora c'era tutta la terra dove adesso passa l'acqua l'acqua passava lateralmente in modo più stretto in un canale molto più stretto il canale la curva si chiamava allora cingarlini per poi prendere la via dei dei ponte dei voltoni unirsi con gli altri canali e di conseguenza formare il fiume mincio quindi ci fu veramente un lavoro pensate di chiusura idraulica scavo rimozione terreno e creazione di fatto di un fiume che non esisteva quindi veramente lavori importantissimi che cambiarono proprio la l'assetto di peschiera come gli altri che poi vi illustrerò con le prossime dirette di approfondimento perché noi facciamo queste dirette con il solo scopo di farvi apprezzare tutta quella peschiera nascosta tutta quella storia quella grandissima storia che ha che racchiude dentro le mure questa città e che deve essere conosciuta perché perché un valore aggiunto per questa città perché un valore aggiunto per tutti voi che verrete a visitarla perché fare una passeggiata e comprendere sapere anche magari poco ma qualcosa del posto in cui si ebbe da questo posto un valore aggiunto e regala anche quel po di cultura che penso sia la base su cui tutti noi dovremmo cercare di spingere sempre di più sempre di più e sempre di più per questo turno di peschiera è qua franco lanfredi sta riprendendo io sto parlando lo facciamo proprio per amore del territorio e per un senso anche civico di far conoscere ho sfogliato e siamo arrivati proprio a una foto emblematica questo è ecco il ponte sburgico che vi ho mostrato prima nella foto distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale completamente distrutto infatti si vedono i fori dei passaggi pedonali sopra correva la ferrovia e chiaramente caspita questo punto fu distrutto e ricostruito nello stato di attuale cioè i sette punti attuale ma vediamo proprio l'angolo questo è il saliente vi faccio vedere col dito questo piccolo saliente esattamente quello che vediamo eccolo lì eccolo qua questo saliente qua adesso tolgo il dito così si vede eccolo qua quindi questa è proprio una foto scattata sempre dal punto in cui siamo adesso che ritrae proprio il canale completamente asciutto vedete che non c'è acqua è stato chiuso vi e veniva in quel momento distrutto questo questa massicciata questo lungo canale per fare posto come vedete alla mia destra al nuovo canale molto più largo che si univa a quello diciamo della dogana lo spazio veniva così ampliato di conseguenza si poteva poi arrivare più comodamente all'inizio di fumimicio che sta a poche centinaia di metri alle nostre spalle questa è un'altra foto veramente io trovo veramente emblematica perché qui proprio si sta costruendo vedete la massicciata in cui siamo adesso questa parte di sasso è sommersa infatti se voi passeggiando lungo e lungo lago bonomi che questo vi affacciate guardate sotto vedete proprio questi questi queste pietre questi punti di marmo ancora sotto acqua questa parte qua vedete fu scavata vedete che c'è anche una rotaia che trasporta tutte diciamo la lavorazione dello scavo e poi essere scaricata e questo canale una volta finito di essere scavato fu poi riempito ed eccolo qua quello che oggi noi vediamo quello che oggi noi possiamo possiamo transitare in questo canale con qualsiasi tipo di barca a rema con le canoe con il soup con la voga col canottaggio insomma è oggi diventato un canale che viene usato anche per le visite guidate alla fortezza che sono sempre attive che sono veramente interessanti anche perché potete andare a toccare con mano tutte queste cose che vi stiamo così velocemente in modo anche informale leggero mostrandovi quindi con oggi chiudiamo ecco questo piccolo approfondimento del bastione san marco che magari prima della chiusura della diretta potrete vedere anche frontalmente perché a me ricorda tantissimo la prua di una grande nave quando il saliente viene inquadrato esattamente di fronte si apre a noi come una prua di una nave che solca le acque questo proprio sembra veramente questo e quindi da questo bastione che vi ricordo potete tranquillamente visitare a piedi entrando la porta verona quella porta bellissima che avete visto nei nostri posti con leone di san marco sulla sommetà entrando appena a sinistra c'è la passeggiata che vi conduce proprio sul percorso di ronda del bastione e da lì potete ammirare da sirmione alla parte est del lago fino alla zona in cui siamo in questo momento io vi saluto vi lascio in questa passeggiata per vedere appunto questo bastione bellissimo e ci vediamo la prossimo mercoledì ciao 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 ciao